La veneria reale è stupore. Lo stupore della bellezza di una corte contemporanea, dove regalità e piacere di vivere si trasformano ogni giorno in un'esperienza diversa. Non importa se il motivo della visita è la storia o l'arte, il paesaggio o lo svago. Quello che conta è l'emozione, nascosta dietro un incantesimo regale che affascina gli ospiti attraverso il rinnovato percorso di visita, le mostre, la natura, gli spettacoli e il gioco. La veneria reale è un capolavoro del barocco, l'incantevole Salone Viviana, la magnifica galleria grande, la purezza della cappella di Sant'Uverto e l'immenso complesso delle scuderie juvariane sono l'orgoglio di chi ha creduto che la reggia potesse diventare, dopo due secoli di abbandono, uno dei cinque luoghi più visitati d'Italia e dei primi cento nel mondo. La veneria reale oggi è un patrimonio mondiale dell'umanità, dopo essere stata residenza di Caccia e Piacere nel 600 e Palazzo dei Re nel 700. La veneria reale è immersa nella natura, nelle visioni all'infinito dell'arco delle Alpi, con il potager royal più grande d'Italia, con lo specchio d'acqua della romantica peschiera, tra i resti della fontana d'Ercole, del Tempio di Diana e i profumi del Giardino delle Rose. La veneria reale è una continua sorpresa. Il teatro d'acqua della Fontana del Cervo nella Corte d'Onore, la scoperta dei giardini con la freccia di Diana e le gondole, gli spettacoli teatrali delle giornate da re, le sontuose cene regali nella Galleria Grande e i cibi tradizionali della cucina italiana sono solo alcune delle sorprendenti esperienze della reggia d'Italia. La veneria reale è una passeggiata d'arte, attraverso il film di Peter Greenaway sulla vita di corte, i suoni di Brian Eno all'interno della Galleria Grande, il giardino delle sculture fluide di Giuseppe Penone, l'installazione di Giovanni Anselmo nel Grand Parterre e gli allestimenti delle mostre di grandi artisti. La veneria reale è una grande occasione per le scuole di conoscere e imparare divertendosi. La veneria reale è pronta per un grande anno con il percorso di visita arricchito e grandi mostre. Lo splendore delle corti italiane, gli Este, un grande viaggio tra rinascimento e barocco a Ferrara e Modena, la fiabesca barca sublime con le carrozze regali. Alta moda, grande teatro, con gli abiti di Armani, Capucci, Fendi e Versace, ideati per grandi artisti come Mirella Freni, Joaquin Cortez e June Anderson. E poi, Orting Festival è il piacere dei prodotti della terra tra cibo, design e creatività a chilometri zero. La veneria reale Ogni volta lo stupore della bellezza.